E' piantonato in ospedale a Teramo Farim Koldashi, 27 anni di origini albanesi, accusato dell'omicidio volontario di Manuel Spinelli, 22 anni appartenente ad una storica famiglia Rom di Alba Adriatica. Il ragazzo è stato raggiunto all'occhio e al cuore da due fendenti sferrati dal 27enne ieri sera attorno alle 23.30 al culmine di una rissa avvenuta nei pressi della taverna Wolf di Alba all'incrocio tra Viale Mazzini e Lungomare Matteotti. Tutto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale con i filmati già al vaglio degli investigatori che saranno inseriti negli atti dell'inchiesta condotta dal nucleo investigativo dei carabinieri di Teramo e dalla compagnia di Alba Adriatica e coordinata dal pubblico ministero della procura di Teramo Davide Rosati. Alla base della scazzottata probabilmente vecchie ruggini per questioni di cuore, una donna contesa forse, già fidanzata di Spinelli poi diventata ragazza di Koldalshi. Secondo una prima ricostruzione, l'incontro tra i tre rom che stavano cenando nel locale e l'albanese sarebbe avvenuto in maniera del tutto casuale. Koldalshi stava percorrendo in auto il tratto di strada nei pressi del Wolf con a bordo la fidanzata. Forse qualche parola di troppo e i due vengono alle mani. Ne scaturisce una rissa che coinvolge anche gli altri amici di Spinelli. Koldalshi a quel punto estrae il coltello e sferra i due colpi fatali. Infine fugge prima di essere rintracciato dai carabinieri e condotto al pronto soccorso di Teramo per le lesioni riportate. Per Spinelli invece non c'è stato nulla da fare nonostante la corsa verso l'ospedale di Giulianova.